Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle Tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal Tuo aiuto misericordioso. Nelle Tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il Tuo potere di intercessione presso Tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in Te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta. Preservami, guidami, proteggimi. Sì il mio rifugio. Maria che sciogli i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie.